Bentornati alla prima giornata di campionato con la Mavericks, siamo con la Young League e qui abbiamo le squadre Standard Chartred e Palestra Body Art, presentatevi Parmigiano Francesco, Capitano, tu sei? Fabio Cataletto, difensore Qua abbiamo? Fabiano Buondono Capitano, Lorenzo Mattro, difensore Colombrino Mirko Allora la partita è stata un po' accesa, abbiamo avuto diversi ammoniti Qui abbiamo Colombrino che è stato l'unico, ha acceso, ha ucciso un po' tutte e due Qui abbiamo Colombrino che ha fatto l'unico gol Ah, il portiere Un bella partita, soddisfacendo, ho fatto anche un calcio di rigore Complimenti Ah, grazie a tutti, comunque ci siamo divertiti Sì, infatti, alla fine è così Tu chi sei, tu chi sei? Beniamino De Luca, attaccante però questa volta ha giocato a porta Perché il portiere è assente oggi Complimenti Allora avete vinto 4 a 1 Che volete dire voi per la prossima partita? Che facciamo schifo Cerchiamo di non arrivare ultimi perché veramente è stata troppo accesa come partita Sia litigi Però l'importante alla fine è stare tranquilli e chiarirsi Va bene ragazzi, alla prossima